Ben trovati da un nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi e realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Oggi parliamo di un progetto immobiliare, direi avveniristico, interessante, che è promosso da Banca Illimiti e che si chiama Abilio e con noi c'è Renato Ciccarelli, proprio un'iniziatore delegato di Abilio S.P.A. che ringraziamo per così averci concesso il suo tempo oggi. Grazie a te Gerardo e buongiorno a tutti. Allora partiamo dall'inizio, perché nasce Abilio e come si colloca insieme a Quimmo all'interno dei vostri progetti immobiliari e se vi piacere magari ci racconti un po' da dove arrivi anche tu. Volentieri, facciamo una long story short come si usa a dire. Nel 2011 noi siamo partiti come società di intermediazione, casa d'aste per beni strumentali e nel 2014 è nata come Industrial Discount S.R.L., ci siamo avvicinati all'immobiliare creando un nuovo portale Real Estate Discount e abbiamo iniziato ad intermediare online attraverso aste telematiche i primi immobili. La realtà è cresciuta, ha acquisito consenso nel mercato, ci siamo avvicinati alle istituzioni finanziarie, ha lavorato con molte banche e società di leasing. Nel 2018, quella che poi nel frattempo era diventata IT Auction, ha incontrato e si è innamorata con il gruppo Illimiti, con Corrado Passere e Andrea Klamer nello specifico. Quindi Illimiti ha acquistato il 100% della società per fonderla all'interno di Naprix, il servicer del banca Illimiti, per creare un servicer end-to-end. L'anno e mezzo di permanenza di tutta la struttura, che conta comunque 200 persone oltre a tanti immobili in gestione, ci ha permesso di strutturare un servizio e di comprendere che il mercato a cui facevamo riferimento era molto più grande di quello che stavamo trattando e quindi il salto, cioè creazione di una nuova scatola, Abilio, SPA, che ha all'interno portali di vendita mobiliare ed immobiliare, Quimmo, che abbiamo presentato il 5 aprile nella conferenza stampa in cui eri presente, è il portale di punta dell'intermediazione digitale nel mondo Real Estate appunto. Solo concludere per dire che è centrale rispetto all'attività di Illimiti, che basa la sua attività nel Distress Credit, soprattutto sul corporate secured e quindi la valorizzazione dell'immobile è chiaramente importante. Ok, io ho una curiosità, allora rispetto all'agenzia tradizionale, a quella digitale o al grande service provider internazionale, non faccio nomi di altri brand, dove si posiziona Abilio? Abilio è un po' un soggetto nuovo, quindi forse non si posiziona in nessuna di queste categorie. In conferenza stampa abbiamo parlato di evoluzione, per molto tempo anche noi abbiamo utilizzato la parola rivoluzione, sbagliando probabilmente. L'evoluzione significa cambiare quello che c'è già, cercando di migliorarlo e il nostro miglioramento nasce soprattutto dall'aggregazione di servizi. Quindi Abilio e quindi Quimmo si posiziona nel mondo della visibilità al pari di quelli che sono i portali di visibilità, nel mondo dell'intermediazione al pari di quelle che sono le agenzie tradizionali o in franchising. Diversamente dal franchising non facciamo utilizzo di franchising perché abbiamo persone nostre su tutto il territorio. Quindi nel nostro grafico siamo in alto a destra, è un mercato che riteniamo inesplorato e che potrebbe essere quello di atterraggio dell'evoluzione digitale a cui l'agente immobiliare dovrà rendere conto nei prossimi anni probabilmente. Ecco, due elementi che tu hai citato, quindi presenza territoriale, quindi human touch, ok, ma una componente digitale molto forte anche annunciata durante la conferenza stampa di presentazione di Quimmo. Come conciliate? Qual è il punto di equilibrio? Beh, allora, chiaramente è un punto di equilibrio difficile, no? Perché c'è chi nasce per disintermediare il suo digitale, c'è chi invece è presente sul territorio e quindi racconta la propria capillarità come punto di forza e c'è chi cerca di metterle insieme come noi. Li conciliamo sicuramente attraverso la tecnologia che evolve molto rapidamente, conciliamo appunto le 200 persone di cui 100 centralmente e 100 sul territorio che si occupano e della visibilità della pubblicazione, diciamo, degli immobili online e del generare visibilità ma anche di accompagnare le persone operativamente e assisterle commercialmente in quelli che sono i passaggi per arrivare all'acquisto. È una integrazione che passa attraverso CRM, applicativi e la possibilità con i nostri 25 sviluppatori interni di adeguare continuamente quelli che sono i nostri applicativi alle esigenze che si manifestano sul mercato perché non siamo nati pronti, ci rendiamo pronti strada facendo e tutto cambia, se pensate, noi siamo partiti vendendo beni strumentali, ora vendiamo anche immobili, cioè tutto ha la necessità di cambiare continuamente, soprattutto in momenti diciamo così di evoluzione così veloce come quelli che stiamo vivendo. Ecco, rispetto sempre al territorio, vedete delle possibilità di così interazione o coinvolgimento o reclutamento chissà rispetto agli agenti immobiliari tradizionali? Ma allora, intanto molti dei commerciali che lavorano con noi, li chiamiamo agenti immobiliari pentiti, nel senso che ci sono anche molti avvocati pentiti, sono persone che avevano magari un'agenzia e poi hanno scelto di fare un percorso all'interno dell'azienda, le agenzie immobiliari sono tante in Italia, sono più di 46 mila credo ed è un lavoro che ha la necessità di cambiare, di evolvere, noi collaboriamo già con circa una ventina, 25 agenzie immobiliari sul territorio, a cui chiediamo nello specifico di fare qualcosa di diverso dal pubblicare online e generare lead attraverso la pubblicazione online, cioè chiediamo all'agente immobiliare di darci due cose, o la presenza territoriale, cioè conoscere che quella persona sta cercando un immobile e proporgli gli immobili che noi abbiamo, persona a cui non arriveremo digitalmente magari noi, oppure verticali su alcuni settori, quindi magari nella grande distribuzione piuttosto che nel ricettivo. Ecco, con agenzie selezionate stiamo iniziando a creare una rete di collaboratori con cui lavoriamo in coagency, perché Corrado, Corrado scusate, magari, no dico magari, grazie, forse la stessa lunghezza, Corrado passerà, salutiamo così, perché il nostro interesse primario non è, se vogliamo quello di garantirci una commissione, ma di soddisfare il nostro cliente. Siccome spesso i nostri clienti sono mandanti che hanno molti immobili in vendita, spesso a noi, a volte a noi interessa di più soddisfare i loro business plan, le loro aspettative di vendita e quindi lavorare in coagency con alcune persone che ci garantiscono maggiore velocità o maggiore penetrazione, lasciando a terra gran parte della nostra commissione. Quindi non escludo in futuro che questa collaborazione con il mondo delle agenzie immobiliari si possa intensificare. Non arriveremo mai ad un'attività di franchising, diciamo, perché non è quello che ci interessa, però una proporzione ribaltata, diciamo, con collaborazioni specifiche con agenti immobiliari, soprattutto nella gestione capillare del territorio, è possibile. Bene. Tu sai che io tengo molto a quelle aziende, a quelle persone che in azienda hanno un'opinione e la capacità anche di raccontarla senza limiti, anzi, illimiti, illimitatamente. Più volte ci siamo parlati rispetto alla differenza tra la commercializzazione di un immobile all'asta rispetto ad un immobile sul mercato libero e tu sei un forte sostenitore del fatto che la vendita all'asta in qualche modo andrebbe resa quasi uguale a quella, diciamo, a un mercato libero. Ci vuoi raccontare un attimo questa sfumatura che tanto sfumatura non è? Ti ringrazio Gerardo per l'opportunità di spiegare anche un po' il percorso, la transizione tra quello che eravamo, cioè mercato soprattutto giudiziario di stress, al libero mercato e creazione, se vogliamo, di quel mercato unico immobiliare che ho citato qualche volta e su cui batterò nel prossimo futuro, proprio perché non c'è alcuna giustificazione apparente al fatto che una vendita giudiziaria debba scontare il meno 30, meno 40% rispetto a una vendita al libero mercato. Perché? È una vendita molto sicura, è una vendita, diciamo, che dà molte certezze a chi compra e spesso non si ha bisogno di un legale per partecipare, ma si ha bisogno di un perito che riesca a leggere la perizia. Quindi questa lontananza giustificata deve spingere le vendite giudiziarie più vicine a quelle che sono le vendite del libero mercato. Certo, c'è sempre una componente tempo che non può azzerare la distanza, però il tempo è limitato nelle vendite giudiziarie, ma così come il libero mercato forse deve emanciparsi un pochino e deve utilizzare strumenti anche diversi, che possono essere la trattativa privata, ma possono essere anche l'asta. L'asta in Italia purtroppo è considerata ancora uno strumento del mondo giudiziario. L'asta non è la vendita, l'asta è il metodo attraverso cui si forma il prezzo. Se pensiamo alle opere d'arte, Cristis e Sotibis sono tutto forché vendite giudiziarie, no? Ecco, quindi proporre attraverso meccanismi diversi un percorso di raggiungimento del valore, migliorare la presentazione, cercare di uniformare dalla ricerca al trovare, al visionare, poter comprare il percorso senza dover saltellare da un posto all'altro, è un po' la nostra mission. Ok, chiaro. Una domanda, l'ultima, anzi la penultima. Intanto, vabbè, ci interessa capire come l'agente immobiliare può entrare in contatto con Abilio. Avete un sito web, c'è un canale preferenziale, come funziona? Intanto abilio.com.it è il portale istituzionale, è la scatola che dentro ha tutti gli altri portali. Quindi possono contattarci o attraverso info abilio.it oppure attraverso info quimmo.it. Ecco, poi verranno direzionati su Matteo e Carlo, che sono, Matteo è il capo della nostra agency. Matteo Bruccoli. Matteo Bruccoli. E Carlo Belloni, che dirige appunto questo piccolo gruppo che comunque sta crescendo di agenti immobiliari con cui lavoriamo stabilmente e sta organizzando, diciamo, una nostra rete con, devo dire, molta soddisfazione reciproca, variando anche una visione che io stesso avevo in passato, di lontananza rispetto all'agenzia immobiliare, ma di trasformazione, evoluzione in un rapporto, diciamo, di scambio in cui l'agente immobiliare però deve darci qualcosa in più del pubblicare su immobiliare.it e gestire il lead. Quello riusciamo a farlo da soli. Chiarissimo. Un'ultima cosa, durante la presentazione di Quimmo avete parlato di una bella iniziativa che si chiama Mind, se non sbaglio, che riguarda proprio la costruzione, la riqualificazione di un grande quartiere a Milano, quindi insomma, bella iniziativa. Al di là, diciamo, di questi progetti che sono sicuramente di alto standing, pensate di arrivare poi in pratica anche al mercato, quello un po' più della signora Maria, ecco, e quindi bilocale, bilocale, magari anche in situazioni, in contesti meno apprezzati, ecco, rispetto alle aree metropolitane. Guarda, avevamo degli step di evoluzione che sono proprio questi, passare dal giudiziario al libero mercato attraverso gli sviluppatori come Mind, come altri con cui stiamo dialogando, perché è un mercato, diciamo, forse più semplice da gestire per noi, molto più concentrato, gestire la frammentazione delle signore Marie che devono vendere, che poi, devo dire, sono molto più evolute, no, di quanto noi pensiamo, ecco, gestire quel mercato è sicuramente difficile, ma dovremmo farci conti velocemente, perché? Perché soltanto ad aprile dal lancio abbiamo ricevuto circa 500 richieste di persone che vorrebbero vendere l'immobile con noi. E allora mi collego al discorso sulle agenzie immobiliari, mi collego alla mutazione, all'evoluzione, perché abbiamo la necessità di rispondere con efficacia alle richieste delle persone singole che devono vendere la casa. Noi abbiamo la forza per presidiare le zone principali, non abbiamo la forza di presidiare la vendita del garage della signora Maria in periferia a Treviso, cioè perché è una vendita effettivamente difficile da gestire. Però dovremmo farci conti molto velocemente, perché qui ho avuto una visibilità importante e quindi poi non puoi scegliere, diciamo, che cosa, quale tipo di cliente far entrare nel tuo negozio, occorre dare una risposta a tutti. Per far questo stiamo evolvendo molto velocemente anche nel comparto delle valutazioni, perché spesso riuscire a vendere, a dare un buon servizio significa anche riuscire a far entrare le cose che sono effettivamente vendibili. Spesso nell'immaginario comune esiste l'idea, ho comprato la casa a 100, ho speso 20, voglio guadagnare 10, la casa la vendo a 130. Però sono passati 20 anni, il mercato immobiliare si è trasformato completamente, quello potrebbe non essere il valore giusto. Quindi filtrare l'ingresso significa ottimizzare la macchina che poi riesce a vendere. Mettere degli annunci a prezzi fuori mercato non serve a nessuno, cioè distoglie soltanto l'attenzione e fa lavorare la macchina su qualcosa che non arriverà mai a terra. Bene, bene, grazie Renato, ti terei qui ancora un'ora, ma insomma il tempo è tiranno, però ti aspettiamo nei prossimi mesi per raccontarci eventuali sviluppi del progetto. Certamente, ti ringrazio Gerardo, ciao a tutti e alla prossima. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello chiocciola gerardopaterna.com. Ti aspetto in occasione del prossimo video.